La mia avversaria è la Meloni, l'ho sempre detto. Ellie Schlein fissa gli obiettivi, è carica, la campagna elettorale è ormai agli sgoccioli. Oltre 120 tappe da nord a sud, casa per casa. Dirette dei comizi sui social e piazze piene a Torino, Genova e Bari. Ieri era in Toscana, a Firenze per sostenere la candidata sindaco Sara Funaro e speriamo di vincere al primo turno. Oggi il Gran Finale a Padova, tappa simbolica, dove Enrico Berlinguer tenne il suo ultimo comizio proprio alla vigilia delle europee del 1984. Quindi serata in tv, per un faccia a faccia di fine campagna con Enrico Mentana che ospiterà negli studi di La Sette anche Salvini, Tajani, Fratoianni e Conte, ovvero l'uomo a cui tende la mano per costruire un'alternativa di governo dopo le europee. Le battaglie sociali È la destra l'avversario numero uno della Schlein. Non ho mai perso tempo in polemiche con un'altra forza politica, sottolinea ricordando le battaglie sulle questioni sociali. Lavoro e sanità, su cui la Meloni non dà le risposte attese da IDEM. Sulla sanità pubblica e il salario minimo, sotto 9 euro l'ora non deve essere legale. La Premier è infastidita dalle nostre domande, attacca Ellie, cerca ogni giorno un espediente per distogliere l'attenzione e decidere lei cosa deve dire la leader dell'opposizione. Ma non sono un jukebox. Per la sanità propone di prendere 4 miliardi sulla riforma ERPF 800 milioni dai centri in Albania. L'alternativa è lo smantellamento della sanità pubblica. L'esempio valido è il bonus psicologico, su cui le poche risorse stanziate dal governo serviranno per rispondere al 5% delle domande arrivate. Poi ancora stoccate al decreto del governo sulla sanità. Una presa in giro, ribadisce, è tutta fuffa. Dicono di accorciare le liste d'attesa senza mettere un euro aggiuntivo. E dopo lo scontro Meloni-De Luca, la segretaria rivendica pure le differenze di linguaggio. L'insulto non mi appartiene e mai mi apparterrà. Sono una femminista ma non aderirò mai a uno scontro muscolare. Non è debolezza ma una scelta per cambiare la grammatica della leadership. In Europa come in Italia, l'obiettivo non cambia. Il PD fa parte della famiglia socialista che è anche l'unica che può arginare la destra, ricorda. Tuttavia i dem dicono no all'ipotesi di sostenere Mario Draghi come futuro presidente della Commissione UE. È una figura autorevole, ammette la leader PD, ma io sono una federalista europea e chi vota una famiglia europea sa che quella famiglia ha un candidato. Il nostro è Nicholas Schmidt. Sul voto i bookmaker sono però spietati. Per la conquista del maggior numero di seggi in Europarlamento è nettamente favorito il PPE, quotato 1.05. Staccato S ed I, 11, quindi IDDCR, e 26. La segretaria non si scoraggia, ora si sente forte. Dopo la sconfitta delle politiche tantissimi ci davano per morti ma ora siamo più vivi e combattivi che mai. Eppure teme l'astensionismo, c'è un alto rischio. Stiamo dicendo a tutti di votare perché il voto fa la differenza. Al Nazareno regna la scaramanzia. Nessuno si sbilancia su numeri, previsioni e asticelle. Porta Iella, ma abbiamo fatto una campagna tra la gente, pancia a terra, assicurelli. C'è la soglia psicologica del 20% da superare ma qualcuno sogna di arrivare al 22%, percentuale che consentirebbe di tenere a bada il M5S nella corsa interna al centro-sinistra. Le alleanze. Con Conte rimangono alcune differenze strutturali, ma sulla guerra Eli difende ancora l'operato del partito. Se non avessimo aiutato l'Ucraina fin dall'inizio, Putin a quest'ora avrebbe già vinto e riscritto i confini dell'Europa. Però poi tende la mano al leader M5S. La matematica non è un'opinione e noi non abbiamo presunzione di autosufficienza. Dobbiamo costruire un'alternativa a questo governo. Con loro abbiamo diversità anche profonde, ammette, ma bisogna fare lo sforzo della politica per cercare dei punti in comune su giustizia sociale, lavoro dignitoso, emergenza climatica, diritti. Con Conte e Calenda farei una grande battaglia sul congedo paritario per contrastare la crisi delle nascite, come l'hanno fatta in Spagna e come sta facendo Macron in Francia. La replica di Calenda non si fa attendere, lavoriamo insieme su cose come il salario minimo. Conte invece glissa sull'ipotesi di un federatore del centro-sinistra, sono formule giornalistiche, non abbiamo bisogno di un mentore che ci faccia parlare. Con l'Hashline ci sentiamo spesso secondo il fabbisogno politico. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news, puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.